Ciao, buonasera, sono Massimiliano dalla provincia di Grosseto e questa è la mia recensione degli aspiratori per camini gemi. Come potete ben vedere vi ho fatto iniziare la ripresa al momento dell'accensione per farvi vedere comunque che il fumo viene aspirato. Considerate che per una mia necessità adesso è impostato sulla velocità 3. Ciò non di meno trovo molto utile e funzionale il fatto che la centralina che controlla la velocità di aspirazione va da 1 fino a 6 e per facilitare l'accensione del fuoco ho trovato particolarmente utile anche la sesta velocità proprio per avere una bellissima aspirazione e diciamo perdere meno tempo. Comunque anche alla velocità numero 3 come potete vedere che è giusta appunto la metà già si ha un'ottima aspirazione anche in fase d'accensione. L'installazione è stata molto semplice anche perché vengono forniti tutti i materiali le staff e nel mio caso anche una riduzione rotonda perché la mia canna a fumare è rotonda e adesso vi faccio vedere dove io per una mia comodità ho installato la centralina in un posto abbastanza nascosto proprio per una mia esigenza estetica. Continuate tranquillamente a notare come alla terza velocità viene tirato su bene il fumo e come la fiamma sia bella viva e non ci sia nessuna evidente anzi nessuna fuoriuscita di fumo da quella che è la canna fumaria. Il camino era un caminetto prefabbricato ma ha sempre avuto dei problemi di aspirazione. Finalmente dopo quattro anni di vari tentativi ed esperimenti mi sono convinto ad acquistare un aspiratore da camino per la gemi. Adesso vi mostro dove io ho nascosto la centralina è stata nascosto in un posto abbastanza scomodo però non volevo che stasse all'esterno e si vedesse. Ho fatto i collegamenti con un cavetto da esterno dalla centralina fino all'esterno e poi sempre il cavetto da esterno collegato lungo la parete fino fino ad arrivare il tetto. Adesso vi mostrerò come alla sesta velocità l'aspirazione sia veramente fenomenale. guardate come la fiamma si ravviva e prende subito una bella consistenza. Detto questo adesso mi mi sposterò sul tetto per farvi vedere la reale efficacia e la dispersione dei fumi dell'aspiratore della gemi. Bene eccoci arrivati sul tetto come potete vedere la dispersione dei fumi è ottima questo è il collegamento che io ho fatto con la scatola di derivazione e il cavetto da esterno che attraversa il tetto e poi scende lungo la parete. Pienamente soddisfatto del mio acquisto mi pento solamente di non averlo fatto prima e di nuovo grazie alla gemi per i loro prodotti. Ah il mio aspiratore e il modello base. Ciao a tutti